Una o due giorni che il territorio aretino non dimenticherà, quella che sta per vivere, con la visita del Principe Alberto II di Monaco. Il sovrano sarà sabato 14 settembre al Santuario della Verna, mentre il giorno seguente alla Cittadella della Pace di Rondine. Il Principe è atteso al Monte Sacro nel pomeriggio, una visita che sarà strettamente privata alla vigilia della Festa delle Stimmate di San Francesco nell'anno centenario. Sarà accolto al suo arrivo dal padre guardiano Fraguido Fineschi. La visita sarà un tour del Santuario dell'Archivio Storico che custodisce la documentazione del passaggio in questi luoghi della Principessa Grace nel 1968 insieme alla figlia Carolina di ritorno da un campeggio estivo nel Casentino. Domenica 15 settembre alle 10, Alberto II di Monaco giungerà a Rondine per l'incontro con i giovani della Warhouse, promotori della campagna Leaders for Peace che ha visto il Principato di Monaco tra i sostenitori. A dare il benvenuto al Principe a nome dello studentato, Adeline, studentessa kosovara di Rondine, un ex studente maliano di Rondine che nel suo paese ha sviluppato un progetto per educare alla pace ed evitare la dispersione scolastica. Il Principe terrà un intervento sul tema della costruzione della pace di fronte ai giovani che arrivano a Rondine da tutto il mondo per formarsi come leader e impegnarsi su scala globale nella riduzione dei conflitti armati e nella promozione della pace.